Musica Buonasera e benvenuti all'edizione porto-enonese del telegiornale di Telefriuli. Partiamo dal consueto report sul coronavirus. Nella giornata di oggi sono stati riscontrati due nuovi contagi, uno dei quali in Friuli occidentale. Non si sono invece registrati decessi legati al virus. Le persone attualmente positive in regione sono 162, due in meno rispetto alla giornata di ieri. È stato registrato un paziente sottoposto a cure in terapia intensiva, mentre ricoverati in altri reparti sono 15. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute e protezione civile Riccardo Riccardi. L'assessore regionale all'agricoltura Stefano Zani è rappresentato oggi a Udine il progetto Magredi Grassland, unico finalista in Italia per il premio europeo Natura 2000. Valorizzare un patrimonio naturale che rischiava di essere abbandonato perché fin dai tempi antichi era connesso alle attività rurali, ma nel contempo far sì che esso diventi un'occasione di remuneratività per il territorio. L'assessore regionale Stefano Zanner ha illustrato così il progetto regionale Life Magredi Grassland, presentato nella sede della regione a Udine. Il progetto friulano è fra i 27 finalisti del premio europeo Natura 2000 ed è stato selezionato fra 79 candidature provenienti da 26 paesi UE, più il Regno Unito, e sarà tra quelli che ambiscono a ottenere il riconoscimento lanciato nel 2014, ideato per mettere in luce le migliori idee per la conservazione degli abitati naturali e delle specie animali che rientrano nella rete europea Natura 2000. Magredi Grassland ha come obiettivo la conservazione di quest'area del friulo occidentale, la sua ricostituzione a partire da terreno agricoli abbandonati o attraverso interventi di decespugliamento, il controllo delle specie vegetali all'octone e il trappianto delle specie botaniche più rare e maggiormente minacciate. Il progetto, con il quale la regione ha recuperato 500 ettari di praterie situate su aree protette, ha ricordato Zanner, ha avuto anche obiettivi divulgativi e formativi attraverso il coinvolgimento di oltre 3.000 alunni delle scuole primarie e secondarie. Inoltre ha attivato anche una prassi esemplare coinvolgendo gli agricoltori e dando la possibilità di accedere ai contributi per la gestione dei prati stabili alle aziende autrici di buone prassi nell'area interessata. In quelle limitrofe ha concluso, quali l'attività zootecnica non intensiva, l'adozione di metodi biologici, l'allevamento di capra e pecore che si nutrono con il foraggio. Tornando al premio Natura 2000, i finalisti, divisi in 5 categorie, saranno ora valutati da una giuria indipendente che stabilirà i vincitori. Una sezione speciale è poi dedicata alla scelta del pubblico, che fino al 15 settembre può scegliere il proprio progetto preferito e votarlo sul sito della manifestazione. Fino ad ora il progetto ha ottenuto oltre 2.000 consensi. I vincitori saranno annunciati il 14 ottobre. Voltiamo pagina. Il presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli, sarà il 10 ottobre sui luoghi della tragedia del Vaionte. Sarà il primo rappresentante dell'Unione europea a rendere omaggio alle vittime. Il 10 ottobre, salvo imprevisti, il presidente dell'Europarlamento, Davide Sassoli, renderà omaggio alle vittime del Vaionte. Sassoli si arricerà in visita sui luoghi della tragedia per manifestare la vicinanza dell'Unione europea alle popolazioni colpite dall'onda del 9 ottobre 1963. Il presidente del Parlamento sarà la prima autorità comunitaria a partecipare personalmente alle cerimonie commemorative. I dettagli della giornata saranno resi noti nelle prossime settimane, auspicando che l'emergenza Covid sia rientrata e non comprometta l'appuntamento. È evidenziato, dice Marco Dreosto, deputato europeo della Lega eletto in Friuli, che per primo ha segnalato la lacuna accumulata dall'Europa negli ultimi 56 anni, che la data del 10 ottobre era segnata in agenda del presidente, ben prima lo scoppio dell'epidemia, segno di una forte sensibilità alla nostra proposta. Dreosto ha incontrato Sassoli per ringraziarlo e organizzare una tabella di massima dell'evento. Soddisfatti per il risultato ottenuto i sindaci di Erto e Casso e Vaiont, rispettivamente Antonio Carrara e Lavinia Corona, che ora si attiveranno con i colleghi del versante Veneto e con i superstiti per accogliere al meglio l'esponente di Bruxelles. Abbiamo voluto affiancare l'aspetto della storia e della memoria con quello della rinascita, conclude Dreosto, facendo toccare con mano l'esempio di rinascita rappresentato dalla nuova comunità di Vaiont. Passiamo all'economia, approvati dall'Assemblea dei Soci BCC Pordenonese e Monsile. Oltre 700 mila euro saranno destinati a opere di beneficenza, a vantaggio anche della protezione civile e degli ospedali del territorio. L'Assemblea dei Soci di BCC Pordenonese e Monsile ha approvato i risultati di bilancio dei due istituti, presentati ancora in forma non aggregata, anche se le due banche, che hanno generato un utile complessivo di 9,2 milioni di euro, operano assieme già da dicembre. La BCC vanta un attivo complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro, la raccolta diretta aggregata supera i 2,1 miliardi e il patrimonio ammonta a 186 milioni. Nel 2019 sono stati realizzati investimenti per oltre 2,6 milioni di euro e il credito complessivo erogato alle imprese ammonta a 146 milioni, mentre quello alle famiglie arriva a 103 milioni, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. Oltre 700 mila euro saranno destinati a opere di beneficenza al sostegno delle sue azioni del Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare, 90 mila euro saranno impiegati per l'acquisto di due nuovi pick-up destinati alle protezioni civili di Pordenone e Treviso. Ulteriori 10 mila euro sono stati poi destinati al rafforzamento delle unità di terapia intensiva e subintensiva degli ospedali e per l'acquisto di apparecchiature mediche. Negli ultimi sei mesi, afferma il presidente Antonio Zamberlan, sono cambiate molte cose. La nostra compagine sociale è aumentata dal 6%, raggiungendo complessivamente 18.200 soci, diventando la seconda BCC del gruppo Icrea nel Triveneto per numero di soci. Risultanti importanti che ci rendono ancora più consapevoli della responsabilità del ruolo cruciale che la banca ricopre nei confronti di tutti i 93 comuni nei quali è presente. Andiamo in città a Pordenone. Ci sono molti cantieri attivi. Il punto su via Piave con l'assessore comunale Cristina Ammirante. I lavori per riqualificare e ammodernare Pordenone vanno avanti. Coinvolte anche le vie San Valentino e Piave, con inevitabile impatto sulla viabilità. In questi giorni viene chiuso la circolazione e il tratto all'altezza del sovrappasso dei sindacati, con deviazioni indicate sul posto. Siamo arrivati a concludere le fasi relative alla realizzazione del nuovo acquedotto. Adesso parte la fognatura. In questa prima fase verrà chiuso il tratto di viabilità sotto il sovrappasso della statale 13 della Pontebana, che è un punto nevralgico abbastanza importante e trafficato. Per cui è bene che venga fatto in questo periodo dell'anno, in cui ancora non ci sono le scuole aperte. I lavori dureranno diverse settimane e il cantiere si sposterà progressivamente verso Pordenone. Lavori impattanti, lavori che non si vedono, però fondamentali, specie dal punto di vista ecologico. Assolutamente sì, perché la fognatura sappiamo che a Torre proprio non c'è. In questo momento gli scarichi vengono dirottati direttamente nelle rogge, che poi confluiscono nel noncello. Quindi è un'azione essenziale per poter garantire una città con un'elevata qualità della vita e una sicurezza igienico-sanitaria fondamentale, anche per evitare di vederci commissariati, perché sappiamo che le fognature sono un elemento obbligatorio per la comunità europea. Passiamo a Chions. Domani in municipio il prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, consegnerà il diploma di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a Giovanni Basso, di 97 anni, e Vittorio Saviana, di 96, conferito dal Presidente della Repubblica come riconoscimento per il servizio prestato in difesa della patria. Giovanni Basso e Vittorio Saviana hanno partecipato, con il loro impegno e sacrificio, alla costruzione della patria disastrata dalla guerra. Il prossimo 29 giugno il prefetto invece consegnerà nella chiesa dell'ex convento di San Francesco a Pordenone le restanti onerificenze all'ordine al merito, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini residenti in provincia. Si è concluso il mandato del 132esimo Regimento Artiglieria Terrestre a Riete di Maniago, che al comando del colonnello Mario Feneziani ha guidato il raggruppamento Umbria Marche nel primo semestre 2020. Oltre 200 uomini e donne appartenenti al 132esimo Regimento Logistico a Riete, al 132esimo Regimento Carri e al 28esimo Regimento Pavia, hanno garantito la vigilanza a siti obiettivi sensibili assieme alle forze di polizia nelle province di Perugia, Macerata, Ancone e Pesaro Urbino, per contrastare e prevenire atti criminosi, attacchi terroristici e azioni di altro genere nelle aree terremotate. Tra i principali siti presidiati vi sono i palazzi giudiziari di Perugia e Spoleto, le basiliche papali di San Francesco d'Assisi e di Santa Maria degli Angeli e la basilica di Santa Rita da Cascia, porti e aeroporti marchigiani, oltre ai centi abitati tra Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del 2016. Durante l'operazione il raggruppamento ha svolto oltre 5.600 attività di vigilanza su 75 siti obiettivi sensibili, con oltre 7.500 identificazioni, 43 denunce, 5 sequestri di sostanze stupefacenti e materiale di vario genere. L'Accademia del Panino Italiano ha ideato il menù della rinascita, con il quale 45 artisti del sandwich di tutta Italia raccontano il proprio territorio attraverso i panini. In Friuli lo propone Marco Toffolon, vincitore della prima edizione di The Best Sandwich. In Friuli Venezia Giulia il panino d'autore riparte da San Vito al Tagliamento. L'Accademia del Panino Italiano, dopo il lockdown dovuto al coronavirus, ha ideato il menù della rinascita. Si tratta di una serie di tracce che 45 artisti del panino di tutta Italia interpretano calandolo sul proprio territorio e lo propongono ai clienti. Nella nostra regione l'iniziativa è portata avanti da Marco Toffolon, titolare del Via Vai Caffè di San Vito al Tagliamento, già vincitore del contest The Best Sandwich nel 2017, secondo classificato l'anno successivo, e finalista della competizione Artista del Panino nel 2016 e nel 2018 a Rimini. Toffolon inoltre ha ideato assieme a Mauro Masutti il logo del menù della rinascita, poi ceduto all'Accademia del Panino Italiano. Noi abbiamo raccolto questa sfida che è stata per me una cosa bellissima, anche perché in un momento in cui eravamo veramente fermi, questo ci dava la possibilità di stimolarci per riuscire a riaprire in una maniera più serena, più tranquilla e anche più motivata, come siamo abituati a fare, e niente, praticamente questa è la nostra volontà. Tra le proposte di Toffolon per i friulani amanti del sandwich. Il nostro panino si chiama Mai Visto a Trieste, si chiama a base di prodotti di usciutto cotto di Trieste, una salsa di creme, abbiamo un cappuccio fatto con semi di chimel, e questo è una tipologia di panino, con anche all'interno un formaggio ubriacone, praticamente fatto sotto l'uva, e questo è uno che si chiama Mai Visto a Trieste. Poi c'è un altro panino che è a braccio, a braccio dal friuli, in questo caso ognuno di noi, appunto, regionalmente parlando, hanno messo la loro regione. Questo pane è una treccia di curcuma, pepe-menta, all'interno c'è un prosciutto crudo, un formaggio asin, del crescione, e un radicchio di gorizia stufato e brasato, leggermente. E' molto, molto gustoso, ma a parte questo, proprio la forma della treccia ci dà la possibilità di capire proprio l'abbraccio, la volontà di riuscire a coinvolgere anche i clienti. Abbiamo un altro panino ancora, che è con focaccia di patate di ovoledo, all'interno c'è una sela di coniglio disossata, cotta nel verduzzo, una crema di formaggio Rabol, e automaticamente abbiamo messo anche del figomoro, che è un di Careva, un'altra azienda che ci identifica nel nostro territorio. Cercando appunto di valorizzare tutti i prodotti della nostra terra, ognuno di noi in tutta Italia, e comunicarli appunto ai nostri clienti, che speriamo che vengano assaggiarli, che noi siamo qua. Chiudiamo con lo sport, nonostante i timori di non poter giocare a causa del contagio di un giocatore del Venezia, sabato alle 20.30 il Pordenone scenderà in campo al Rocco di Trieste contro i Lagunari. Assieme a loro ci sarà anche la Promoturismo FWG. Il marchio FWG Live accompagnerà i neroverdi nella finale della stagione e il prossimo anno calcistico. Ambasciatori della Partnership, primi a posare con la felpa griffata FWG, sono i tre calciatori neroverdi della regione, gli udinesi Michele D'Agostini e Luca Strizzolo, e il triestino Tommaso Pobega. Infine, stasera, è stato presentato dal presidente del Chions, Mauro Bressan, il nuovo mister dei giallo-blu. A condurre la squadra sarà la vianese Fabio Rossitto, che da calciatore ha vestito le maglie di Udinesi, Fiorentina, Napoli e Venezia, collezionando oltre 300 gare in Serie A e una presenza con la nazionale italiana. Come allenatore vanta esperienza la primavera dell'Udinese, con Pordenone, Triestina, Cremonese, Palermo e per ultima con la Manzanese, con il successo in Coppa Italia e la conquista della promozione in Serie D. Il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani sempre alle 20.45. Vi lascio in compagnia dei programmi di Telefriuli. Grazie di essere stati con noi. Buona serata.